Allora, gir da lei, siamo pronte qua, c'è tutto? Certo! Dice, dice, che ci fai? Ciao amori! Allora, oggi facciamo le crocchette di patate! Che potete fare? Allora, vieni qua, vieni qua! Allora, queste sono 800 grammi di patate rosse. Allora, io le ho lessate così come le vedete, sbucciate, tagliate a pezzi e cotte senza sale. Va bene? Ecco fatto! Adesso le sto a schiacciare. Adesso io le ho fatte pure freddare, dico la verità, perché c'è un po' di cosette da fare e allora le ho fatte freddare. Tanto si schiacciano bene ugualmente, eh? Ecco fatto! Allora, adesso metto un pochettino di sale, ecco qua. E poi mettiamo un pochettino di noce moscata, ecco qui. Una spruzzatina proprio, eh? Ecco fatto! Io questo va da occhio, eh? E poi un po' di pepe. Che bello che ho finito qua e mi tocca ricomprarlo, che mi scordo sempre. No, come famo senza pepe? Mi scordo sempre, oh, mi marabbia, c'ho. Tutta passa la lavagnetta e ogni volta che manca qualcosa scrive. Ecco, certo. Così poi si lascia scordare a casa. Poi metto un uovo intero e un tuorlo. Allora, io queste qui le sto a fare proprio come faceva mia madre, eh? Proprio alla casareccia, così. Via. Voilà. Ecco fatto. Senti come profuma. Vero, eh? Mamma mia. Vi arriva il profumo, ragazzi, di questo impasto? Io già ho l'acquolina. Tanto mi cambiamo. Adesso metto 50 grammi di parmigiano. Ecco fatto. E amalgamiamo tutto. Eccolo qua. Guardate che bell'impasto sodo. Vedete? Eccolo qua. Allora, adesso. Adesso, adesso, adesso. Allora, faccio così. E prendo un pochettino di impasto. Ecco fatto. Vedete? Ecco qua. Faccio la fossetta e ci mettiamo un pezzo di mozzarella. Allora, questa è la mozzarella per la pizza. Va bene? Mozzarella a pasta filata. A pasta filata. Giusto. Ecco. Sì. Guardate che belle. Allora. Ecco qua. È venuta proprio perfetta. Ste patate so a fine du rumun, eh? Mo' ve l'ho detto. So proprio a fine du rumun. Ecco qua. Ecco fatto. Vedete? Ecco, ripassate nell'uovo e nel pangrattato. Ecco qua. Voilà. Va bene? E mettiamo qua. Eccola. Vai. La prima è fatta. Ah. Ce ne hai messi due pezzi qua. Certo. Com'è, Girtara? Perché? E chi è questa? Sono io. Vattene, la cammina. La sei caricata a Girtarella? Vattene, la cammina. Guardate che. Se l'è caricata. E adesso mi sei riempita la sua, a Girtarella. Mi raccomando, fategli sto lavoro. Ecco, così se cosano bene. Allora. Ecco. Truffetto nell'uovo. Sì. E adesso? Truffetto nel pangrattato. Eccolo qua. Ecco fatto. Guardate un po' come sono venute carine, regà. Ecco qua. Queste sono delle crocchettone di patate. A me le piacciono grosse. Certo. Che ti devo fare. A noi quelle che sono un bocconcino non ci piacciono, vero Girtare? Eh no. Ci piacciono belle cicciotte. E pare che hai sempre fatto sto lavoro. Beh, non ho fatto sto lavoro, però si cucino da una vita, non lo so io. Guarda un po'. Tra un po' occhi chiusi, regà. E no, è vero, eh. Ti è? Oddio mio, quanto sei matta, figlia mia. E perché non è vero? Ti è? Eh, due minuti. Ecco, vai. Eh, due minuti. Ecco fatto. Guardate che manualità che abbiamo qua, raga. Si amalgamano bene quando fai così, eh. Ecco, guarda così, devi fare davvero, eh. Non scherzo, eh. Vengono poi belle, lisce. Vedete? Ecco fatto. Allora, sono pronte. Sono perfette. Adesso io queste, prima di cuocerle. C'è caldo Girtare? Molto, molto. Però non mi importa niente. E mi piace la roba calda a me nell'estate da mangiare. Senti, allora, io adesso queste le metto al frigorifero. Se io le devo cuocere fra 4-5 ore, le metto al frigo. Se invece le devo cuocere fra un'oretta, io le metto una mezz'oretta dentro al congelatore, poi le tiro fuori e le metto nel frigo. Un'altra mezz'oretta. E poi le frigo. Se no, le potete congelare, poi le tirate fuori e le friggete direttamente congelate. Va bene, ragazzi? Comunque specifica, non è che tu l'estate ti mangi la roba bollente. Come no? No, nel senso, quello che va mangiato caldo, ci piace mangiarlo caldo. Poi c'è i piatti freddi, sono buoni freddi, insomma, voglio dire. Pasta e fagioli, un vero e peperoncino verde. Quello, certo. Una bella pasta e ceci bollente. Certo. Noi qui siamo a prova di tutto, ragazzi. Avete capito o no? Vabbè, dai, andiamo a farle riposare, va? Allora, l'olio è pronto. Io non ho messo un litro qui dentro. Olio di? Olio di girasole. E adesso mettiamo le crocchette. Allora, io l'ho fatta riposare un paio d'orette, eh, raga? Va bene? Ecco fatto. Adesso ne facciamo cuocere quattro per volta. Eccole qua. Che si stanno cuocendo. Adesso lasciamo cuocere. Eccole qua, pronte. Calde, calde, eh? Guardate che belle. Vediamo un po'. Vai, vai, vai. Mamma mia, raga. Guardate che meraviglia. Che spettacolo, Gildare. Guardate che bella. Una goduria, raga. Guardate. Mamma mia, che fontanella. Come scotta. Scotta, non la posso mai toccare. Un spettacolo, Gildare. Guardate un po', che meraviglia. Che meraviglia. C'è un profumo, che ve lo dico a fare, raga. Ma adesso io... Ma sono troppo calde per te. No, non si può proprio. Io volentieri... Me la metto qua, eh. Dopo se la mangia con calma. Eh, certo. Allora, amori miei, guardate quanto è bella. Mmm, mamma mia. Che spettacolo, Gildare. Vabbè, amori miei. Allora, io adesso vi mando tanti baci belli, sempre dal cuore e dalla cucina di Gilda. Diamo tutti lo sapete e fatele, perché so favolose e piatto ricco e piatto ricco micifico. di percina di Gilda che so di percina di Gilda di Gilda